Benvenuti a tutti ragazzi, vi trovate in questo mio prossimo video Oggi siamo qui, tratti su Fortnite E siamo qui in un video sulle Ranked Come promesso, vi farò uscire un video Uno alla settimana, uno ogni due settimane Comunque, un video ogni tot Sulle Ranked dove vi faccio vedere il mio progresso E oggi siamo qua con un nuovissimo video Se non avete visto il primo video, andatelo a vedere Perché è molto importante che vi spiego come gestirò i video E perché sono tornato a fare le Ranked Dopo tanto tempo Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, trovate la campanellina Lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici Oggi siamo qui appunto in questo secondo video Sulle Ranked E state già vedendo una partita Ma adesso vedrete tante altre clip Però prima vi lascio una cosa Sono argento 2, 27% Dai si spinge 23% di oro 1 Stasera non vado a letto finché non facciamo oro Dai spingiamo Avete sentito bene Ora vi farò vedere il progresso Piano piano Di tutte le partite che ho fatto in questa settimana In questa settimana e mezzo Dall'uscita dell'ultimo video fino ad oggi Ci sono varie partite Vari pezzi di partite Che io ci parlerò sopra Come state vedendo Tranne alcuni punti Dove salgo di Ranked Che voglio lasciarvi la mia reaction Diciamo Vi dico una cosa Allora Mi sarebbe piaciuto Poi nei commenti magari ditemi Intanto vi ricordo Senza che andate a rivedervi tutto Il discorso precedente Vi ricordo che se volete partecipare A dei video del genere Ad aiutarmi anche A salire di Ranked Basta che mi scrivete O qua sotto nel commento O mi contattate su Instagram Mi chiamo Alle 1088 Mi scrivete in privato Così vi rispondo meglio Sarebbe meglio su Instagram Poi se non riuscite Potete scrivermi anche Il costo nei commenti Ora Ero qua con Fratello Dracox Però purtroppo Siccome era notte Quando giocavamo E diciamo che Non stavamo registrando Io le partite le salvavo Ma non stavamo registrando Stavamo giocando per i cavoli nostri Diciamo che Il linguaggio usato In queste clip Io le ho ascoltate tutte Diciamo che non è proprio il massimo Infatti non vi lascio La parte parlata Vi lascerò proprio Pochissime clip dove parlo In diretta Nella clip Perché purtroppo Non va bene Perché altrimenti Il video Viene buttato giù Quindi Meglio così Comunque Come avete visto prima Nell'ultimo video Abbiamo fatto Anzi nel primo video Dall'Elan Che abbiamo appunto Giocato la prima partita Ora Vedete un sacco di partite Ne ho giocato un bel po' di partite Ho fatto Delle belle partite No Ne abbiamo vinte Veramente pochissime Raga Però Più che partite vinte Abbiamo fatto Partite di posizionamento Partite con tante kill Tipo questa Eravamo 12 Siamo arrivati i settimi Ma tra l'altro In questa qua Siamo arrivati tipo terzi Forse Mi ricordo Sta partita E non ve la metterò Perché non ho tutte le clip Mi sa Ma ho fatto delle belle partite Perché alla fine Giocando alle 3 di notte Anzi alle 3 del mattino Praticamente Ora però Aspettate Eh ma qua abbiamo fatto Undicesimo 3 kill Eh no Un cazzo Fra 67 Eh 45 Facciamo un'altra Facciamo un'altra Come vuoi Che risono Vabbè si un'altra Vai l'ultimo Venti per parti L'ultimo No voglio arrivare oro Dai Io li vado da sopra Sono a metà Ci sono A posto A posto Bravo A posto Easy Mamma Easy 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 Ok Carichi Carichi Do kill Già ce l'abbiamo Carichi Questi li kill Easy Uno già Già l'ho killato Io sto spaccando I container Così ci ho venga tanto Per Virando Morto Ehi Sì Aero 2 Aero 2 Aero 2 14% Ci siamo Ci siamo Ci siamo Carichi Eccomi raga Dopo un po' di clip Dove vi ho lasciato Il parlato Proprio in diretta Delle clip originali Sono tornato Dopo aver fatto Delle kill belle belle Siamo arrivati anche a oro Come avete potuto vedere E stiamo scalando Piano 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 Ragazzi stiamo scalando Comunque prima di criticare Se volete criticare Ragazzi Criticatemi anche Ma guardate prima Il primo video E ascoltate quello che dico E poi se dovete criticare Criticate Però prima guardatevi Il primo video Ok Altrimenti non vi ascolto neanche E comunque abbiamo fatto Delle partite particolari Perché tante Le abbiamo buttate Perché C'è stato un piccolo periodo Come avete visto Magari dall'inizio del video Dove eravamo sul treno Voi avete visto un game Tipo 20 secondi di partita Ma Abbiamo fatto tipo Una sera Dove andavamo solo sul treno E E veramente ragazzi Morivamo sempre Ma Perché sul treno È difficilissimo Partite dove arrivavamo Alla fine della partita Stando sul treno E invece partite dove Morivamo instant E vabbè Purtroppo capita Però comunque Stiamo salendo Piano piano E Sono contento Stiamo spingendo piano piano Sarà un progresso Lungo Però comunque La season dura tanto Per cui ho voluto fare Questa serie In questa stagione Va a vedere Vabbè 68% Dai Intimo pavimento Ci sono Sono dentro Ucciso uno Morti A posto Grandissimo Grandissimo Avevano solo una medaglia Eh sì Vabbè Fa niente Fa niente Io ragazzi Ho già montato il video Quindi Le clip le ho già messe Però Non mi ricordo Quando c'è la clip dove parlo Quindi quando le trovo Che poi Quando le vedo Mi ricordo Quando le trovo Mi stoppo E vi lascio L'audio Della clip originale Comunque In questa stagione Che dura tre mesi È fattibile Arrivare al real Ci voglio provare Però Con il vostro supporto Sarebbe molto meglio Se questo video Raggiunge i 15 like Uscirà subito Settimana prossima Un nuovo video Sulle ranked Vi ripeto Nei commenti O su Instagram Scrivetemi Se vorreste partecipare E Tra l'altro Il discorso Che ho fatto Tipo inizio video Dove vi ho detto Purtroppo Le clip le ho dovute Mutare tutte Perché Non andava bene L'audio Comunque ragazzi Facevo delle cecchinate Pazzesche Guarda qua che cecchinata Non per forza Saranno tutte così Magari Anzi Probabilmente Più avanti Se vorrei Cioè Nei commenti Scrivetemi Se preferite Il video Dove vi parlo Sopra la clip Oppure Vorreste Più audio originale Fatemelo sapere Nei commenti Che magari Mi impigno Un po' di più A Magari Con linguaggio A non dire Niente Di brutto Comunque Sto amando Il cecchino Cioè Una cosa Tra Non so È amore e odio Tra me Il cecchino Perché Lo adoro Da usare Mi piace veramente Un sacco Soprattutto quando C'ha il mirino O quello che state Vedendo adesso Nella clip Oppure il mirino Ottico Lo adoro Faccio delle cecchinate Veramente belle Però Allo stesso tempo Lo odio Perché Ragazzi Muoio In questa stagione Sono morto solamente O dal cecchino O dalla safe È assurdo Dalla safe Ci sono morto Una marea di volte E Non sapete Quante volte Ho tirato Dei bescemioni Per la safe Ma anche il cecchino In queste partite Che vedete Non vedete Tutta la fine Della partita Ma la maggior parte Delle volte Quasi tutte le volte Siamo morti O dai cecchini O dalla safe O mentre eravamo In un fight Ci arrivavano da dietro Ok Tutte le partite belle Rovinate in questo modo È assurdo Comunque Devo dire che Più gioco sta stagione Più mi piace Mi piace veramente tanto Il gameplay Anche il movement Alla fine Sì è strano Però mi piace Mi piace È una questione di abitudine Ragazzi È solo una questione di abitudine Mi piace veramente tanto Le armi mi piacciono Mi piace il crafting Delle armi Che possiamo Che possiamo Modificarle Che lo sto imparando Ad usare All'inizio non lo usavo Per niente Mi piace Mi piace veramente tanto Poi anche al giocare Le ranked Che è un gameplay Un po' diverso Dal magari giocarsi Le no build O le build classiche Mi piace Mi sto divertendo Veramente tanto E Tra l'altro adesso Tra poco Anzi Proprio questa partita qua Che state vedendo Se non sbaglio Faccio una Cecchinata Pazzesca Perché poi Questo cecchino Ha un feeling Particolare Perché il colpo Lo vedi che parte Proprio è bello Gli altri cecchini Tipo non si vede Questo proprio parte Il colpo E fa tipo un giro strano Mi piace Adesso lo vedete Guarda eh Aspetta No non qua Boom Che bello Se vedete proprio Il colpo Che fa il giro Boom 290 Bello 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 Ragazzi Faccio delle cecchinate Belle Ma anche a fine video Vedrete una bella cecchinata Che ho fatto Veramente bella E adesso Siamo in game Ma non vedrete la fine Perché siamo morti Però adesso Aspettate Perché Godo Platino 1 Platino 1 Goloso 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 Platino 1 22% Dai Si sale Guardate qualche cecchinata Boom 105 Dentro ci spuglio Mentre scivolavo Ragazzi ho fatto una cecchinata Pazzesca Altro 105 Io tutti con il cecchino Li piglio tutti Comunque avete visto Siamo arrivati a platino 1 Raga Stiamo salendo piano piano Siamo arrivati a platino 1 E questa è l'ultima partita Che vedete Sì questa è proprio l'ultima partita Che tra l'altro È stata una grandissima partita Ora questo l'ho un po' missato Però l'ho chillato Perfetto Qua non mi ricordo perfettamente Anzi vabbè in realtà sì Perché mi ricordo il risultato finale Quindi per forza Comunque ragazzi Gioco con le armi verdi Io ma Non me ne sto accorgendo Gioco con le armi verdi Ma Cioè Ale del passato Ma cos'è che fai? Prenditi delle armi decenti Ora qua eravamo in 6 player 5 kill Ma in realtà 6 di squadra Quindi comunque Dei punti buoni li prendiamo Perché 6 kill Più posizionamento top Direi che Tanta roba Anche qua raga Ho fatto delle belle cerchinate Ma col cerchino ve l'ho detto Me la cavo eh Mi piace usarlo Guarda Un bel feeling Mi piace Mi piace quando colpisco la gente Allora Ve lo ripeto E amore e odio Perché muoio solo da quello Però vabbè Ci sta Ora qua Era un po' complicata la situazione Perché eravamo Noi due Contro altri tre Ovvero Un team da due Che ci stava pensando Draco E l'altro Che era un singolo player Che era quello lì Che mi aveva appena sparato Che è rimasto sotto Quelle strutture Tra l'altro spoiler Non finirà bene Ora Lo stavo per killare Li faccio tanto male Cerco di entrare nel box Non mi ricordo se lo killo questo Sapete Ma mi ricordo che l'altro Ci fa il sedere Però Questo non mi ricordo Sinceramente Però Abbiamo fatto comunque Una partita Veramente Veramente Bella Ora comunque Colgo l'occasione Per ricordarvi Se volete partecipare a questi video Scrivetemi in questo attimo In commento su Instagram Se ancora non avete fatto Lasciate un bel mi piace Per ci portare questi video Arriviamo a 15 like Per aver subito In questi giorni Comunque la prossima settimana Un nuovo video sulle ranche Per i progressi Che faccio E E vediamo qua Perché comunque Una volta che le clip vengono fatte Comunque già E il video esce Già ho fatto dei progressi Ok Per farvi capire Quando è uscito l'altro video Quando è uscito il primo video Che ero a bronzo Cos'era L'argento Uno forse Ero Cioè in realtà È uscito il video Ma io ero già ad oro Per farvi capire Però E siamo arrivati alla fine partita E guardate un po' qua ragazzi È finita veramente male Qua mi sono anche arrabbiato Ho riascoltato la clip Anche adesso Me la sono riascoltata Ho veramente Insultato qualunque cosa Che si potesse insultare Perché È finita male Però Ragazzi io vi ricordo Di iscrivervi al canale Di lasciare un bel mi piace E di attivare la campanellina Per non perdere i prossimi video Cioè che qua ragazzi Guardate un po' Kill Però dalla safe E questo si è messo anche a ballare Il grid Nonostante li avevo già aperti A quell'altro l'avevo già aperto prima Poi si è curato A questo l'avevo killato Assurdo Vabbè Noi ci bicchiamo ragazzi In un prossimo video Tra l'altro siamo arrivati Secondi purtroppo Ma siamo arrivati a Platino Uno Ci bicchiamo in un prossimo video ragazzi Bella